Il governo finlandese vuole l'ingresso nella Nato senza indugio, annuncia Helsinki. La decisione definitiva verrà annunciata domenica, mentre il governo svedese prenderà una decisione sull'adesione lunedì prossimo. Irritazione di Mosca con il portavoce del Kremlino Peskov che annuncia contromisure, sottolineando però lo sforzo in atto ad evitare lo scontro diretto con l'alleanza atlantica. Nuovo attacco all'acciaieria Azovstal a Mariupol dove militari russi hanno bloccato le uscite dai passaggi sotterranei dell'impianto. Bombardamenti per tutta la notte nel sud-est dell'Ucraina con Kiev che denuncia l'uso di bombe vietate al fosforo e a grappolo. Per frenare le truppe russe sono stati fatti saltare i punti a Lugansk. Il transito di gas russo verso l'Europa attraverso l'Ucraina diminuirà oggi di quasi un terzo rispetto a ieri. Ad annunciarlo il colosso di Mosca, Gazprom, Snam, che è il gestore della rete italiana, garantisce che i flussi dalla Russia al nostro paese al momento continuano senza interruzioni. Ma l'incertezza ha innescato un'ulteriore crescita di oltre il 12% dei prezzi del gas sui mercati di tutta Europa. Un piano marshal per l'Ucraina al termine della due giorni negli Stati Uniti. Draghi lancia la proposta di un piano per la ricostruzione dei territori distrutti dalla guerra russa e ribadisce che bisogna fare di tutto per la pace, assicurando che l'Italia è pronta a fare la sua parte. Sul blocco al petrolio di Mosca è stallo. In UE si cercano soluzioni, discussioni complesse con l'Ungheria. Il senato americano blocca il provvedimento per trasformare in legge la storica sentenza della Corte Suprema che ha legalizzato l'aborto negli Stati Uniti. Al provvedimento servivano 60 voti per essere approvato, invece ne ha ottenuti 49. I repubblicani hanno votato tutti contro. Continueremo a combattere per le donne, ha commentato il presidente Biden. L'Inter vince per l'ottava volta alla Coppa Italia al termine di una finale spettacolare e ricca di colpi di scena. 4-2 finale tra rimonte, polemiche e rigori. La Juventus chiude la stagione senza alcun titolo, non succedeva da 11 anni. Allegri spulso per proteste. Migliore in campo Perisic, autore di una doppietta. Adesso i nerazzurri sono chiamati alla volata finale per lo scudetto. Una buona giornata dal telegiornale della SET, una giornata molto importante per quel che riguarda il conflitto in Ucraina, soprattutto per le notizie che arrivano al di là del campo, a cui naturalmente poi andremo nel nostro racconto. Dicevamo il fronte diplomatico segnato oggi dalla fuga in avanti, in particolare di paesi tradizionalmente e storicamente neutrali, pensiamo alla Svezia ma soprattutto alla Finlandia, che rompe gli indugi. Non lo aveva fatto già solo due mesi fa, annunciando di voler rimanere estranea in questo momento politico molto delicato, lontana dalla Nato e invece l'adesione alla Nato sarà un percorso rapido, lo ha assicurato anche Stoltenberg e non è mancata. Immediata la reazione del Cremlino, ha detto nel caso in cui ci fosse questo passo non potremmo non adottare contromisure e ritorsioni militari. Cominciamo da qui. Finlandia e Svezia si dichiarano pronte ad aderire alla Nato. La decisione definitiva per la Finlandia verrà annunciata domenica dopo il dibattito parlamentare. Intanto il presidente Saul Ininista e la premier Sanna Marin anticipano di volerne l'adesione alla Nato senza indugio. È un passo storico che una volta compiuto contribuirà notevolmente alla sicurezza dei 27, twitta il presidente del Consiglio europeo Michel, con la Russia che fa la guerra all'Ucraina, è un potente segnale di deterrenza. L'ingresso della Finlandia nella Nato sarebbe sicuramente una minaccia per noi, commenta il Cremlino. Daremo la risposta più risoluta se qualcuno deciderà di interferire nell'operazione speciale militare in Ucraina, tuone il portavoce Pieskov, ma avverte, per Mosca va evitato lo scontro diretto. Già ieri sera il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg aveva accolto con favore la firma di garanzie di sicurezza reciproca tra il Regno Unito e i partner stretti della Nato, Finlandia e Svezia, discusso del fermo sostegno del Regno Unito all'Ucraina e dei preparativi per il Nato Summit del 29 e 30 giugno a Madrid. La nostra adesione rafforzerebbe la stabilità della regione del Mar Baltico nel nord dell'Europa e anche la Nato, dichiara il ministro degli esteri finlandese, ha avisto in audizione al Parlamento europeo. Con 280.000 soldati operativi e 900.000 riservisti, una flotta che si prepara a sostituire con 6 F-35 ordinati di recente, la Finlandia registra il 70% di consensi dei suoi 5.600.000 abitanti all'entrata nella Nato. Helsinki riceve il pieno appoggio del presidente ucraino Zelensky durante un colloquio telefonico col capo di Stato finlandese, premiato in nome del popolo ucraino dal think tank statunitense Atlantic Council, ieri sera, in videocollegamento, Zelensky aveva ringraziato il popolo americano e il congresso per il nuovo sostanzioso pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari. Come noto, oltre alla Nato, Kiev aspira ad entrare a far parte dell'Unione Europea. Per questo, facendo tappa a Berlino, prima di partecipare al G7 dei ministri degli esteri nel nord Europa, il titolare ucraino Dmitry Kuleba chiede ai 27 di riservare un posto all'Ucraina. La Russia è la minaccia più diretta all'ordine internazionale, dichiara intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen, dopo l'incontro col premier giapponese Fumio Kishida, a Tokyo. Andiamo, dicevamo, al campo. È stata un'altra notte di combattimenti, soprattutto nel versante sud-orientale del paese, ma poi ci sono ancora le notizie che arrivano dall'acciaieria di Mariupol, poi le denunce sulle armi utilizzate dai russi. Facciamo il punto con la nostra inviata, Paola Mascioli. Buongiorno, Paola. Credo di aver capito che tu ti sia spostata più a sud di Odessa, rispetto, naturalmente, alla giornata di ieri. Sì, buongiorno. Noi ci troviamo nella regione di Odessa, ma nella parte meridionale. Siamo in mezzo ad una strada. Siamo andati molto a sud, oltre il ponte Zatoca, di cui parliamo quasi tutti i giorni. Passando dal confine con la Moldova abbiamo raggiunto la parte estrema della regione di Odessa. C'è un motivo per cui siamo qui, in mezzo a questa strada, con i camion che passano ad una notevole velocità, ma perché vi volevamo far vedere che cos'è questa regione. È una regione agricola. Si vedono ovunque campi coltivati, campi gialli, campi di colza, campi di grano, campi di fieno. Ed è il motivo per cui vi raccontiamo dove siamo stati. Siamo stati a Darsitz, oggi. È un villaggio che si trova appunto nella parte sud della regione di Odessa, che è stato bombardato ben due volte negli ultimi giorni, bombardato con otto missili. Ma di strategico ci siamo chiesti cosa c'era. Ecco, c'erano i silos di stoccaggio del mais. E noi siamo andati a vedere esattamente cosa è accaduto in questo piccolo villaggio. Ci sono degli operai che stanno tentando di mettere un po' d'ordine in questo disastro. È stato colpito con un missile uno dei silos di stoccaggio del mais. Questo forse rientra in una strategia. La strategia comunque che vede il grano sequestrato, bloccato nei silos al porto di Odessa. Il grano, come denunciano i media ucraini, che è stato rubato. In alcune zone, in alcuni giornali sostengono che quel grano si trova già nelle navi che stanno raggiungendo il porto siriano per portare il grano in Siria, come una sorta di scambio che la Russia avrebbe fatto per avere altri volontari in arrivo a combattere in Ucraina. Di sicuro c'è che, come in tutte le guerre, si colpisce anche il cibo, oltre a tutte le infrastrutture che vengono colpite quotidianamente dai bombardamenti russi, che siano ferrovie, aeroporti, strutture strategiche, però si colpiscono anche i luoghi dove si conserva il cibo. Questo è quello che vi volevamo raccontare da qui, da questa strada. E poi, come dicevi anche tu, c'è tutto il resto, ci sono i combattimenti, soprattutto nelle altre zone dell'est del paese. E' quello che sta succedendo all'acciaieria Azovstal. Il servizio. Sul versante sinistro del fiume Dnipro, Kriviria è la città più popolosa nel centro-meridione dell'Ucraina. 400 chilometri più a sud c'è la penisola di Crimea. E' il vertice settentrionale del triangolo che vede Odessa-Dovest e Mariupol a destra, la punta più interna al paese del fronte bombardato da giorni dalle forze russe. Per tutta la notte i piccoli paesi nei dintorni sono stati colpiti dall'artiglieria. A nord-est di Kharkiv, invece, la controffessiva Ucraina ha riconquestato alcuni insediamenti. Qui c'è la linea più debole per gli invasori, perché la priorità data alle operazioni in Donbass ha lasciato le forze russe più vulnerabili. E per frenare l'avanzata nella zona di Lugansk, l'esercito di Kiev ha fatto saltare due ponti sul fiume Sivelsky-Donetsk. Oggi, settantottesimo giorno del conflitto, un missile da crociera ha colpito Zaporizhia, la località dove vengono sfollati gli abitanti di Mariupol e dove, nonostante il controllo russo, l'offensiva continua sempre più violenta. La ciaieria Azostal ormai è del tutto isolata, a 200 chilometri dalle linee ucraine e con una massiccia presenza di forze russe in tutta l'area. I cunicoli sotterranei sono bloccati dall'esterno impedendo l'uscita dagli impianti. Un'eventuale operazione militare per cercare di liberare i combattenti asseragliati sarebbe molto complessa e comporterebbe perdite significative per l'esercito. Ha ammesso il numero due dello Stato Maggiore Ucraino, Romov. Dopo l'evacuazione di tutti i civili, si allontana l'ipotesi di un intervento diretto sul campo chiesto ripetutamente negli ultimi giorni dai vertici del battaglione Azov. Dall'inizio dell'invasione, il 24 febbraio, secondo i dati del governo ucraino, sarebbe andato distrutto o danneggiato il 30% delle infrastrutture del paese per un valore di 100 miliardi di dollari. Attualmente il comando di Kiev non ritiene possibile un nuovo attacco alla capitale. L'eventualità è legata esclusivamente allo sviluppo degli eventi nell'est del paese. In ogni caso, negli ultimi giorni, sono stati recuperati oltre mille corpi, tra civili e militari, nell'area della capitale e molte delle violazioni potrebbero equivalere a crimini di guerra, ha dichiarato l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Bachelet. Il Viminale, intanto, ha fornito i dati più aggiornati. Oltre 113 mila persone in fuga dal conflitto sono giunte finora in Italia le destinazioni preferite dichiarate all'ingresso. Continuano ad essere Milano, Roma, Napoli e Bologna. Dunque, un grazie a Paola Mascioli per il tuo racconto dal campo che ritroviamo come sempre alle 17 nello speciale condotto dal direttore Mentana. Grazie Paola e buon lavoro a te. Naturalmente il fronte che ci ha raccontato la nostra inviata ha delle conseguenze che sono anche conseguenze economiche che abbiamo imparato a conoscere direttamente dall'annuncio nella giornata di ieri perché anche le forze di occupazione impediscono il transito del gas russo e quindi di fatto la vecchia Europa, il vecchio continente si è trovato a dover gestire un taglio considerevole del metano. Per ora, per quel che riguarda per esempio il nostro Paese non ci sono segnalazioni di problemi sulle forniture ma questo è un argomento che la Commissione europea dovrà affrontare per il momento non con un tetto ai prezzi che pure salgono ma anche su fronte dei prezzi dell'energia la Commissione è stata chiara ci saranno prezzi elevati per tutto il 2022 ma anche se misura minore la stessa tendenza accompagnerà i nostri anni almeno fino al 2025. Sale ancora il prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam quella di riferimento per l'Europa in mattinata è arrivata a toccare 107 euro a megawattora prima di scendere intorno ai 105 euro un aumento di quasi 17% rispetto a ieri conseguenza diretta della riduzione delle forniture di gas russo verso il vecchio continente un taglio del 35% scattato ieri mattina quando l'Ucraina ha chiuso i rubinetti del gasdotto dentro il quale transita il metano che Mosca invia all'Unione è situato nel Donbass territorio sotto occupazione russa e per il quale il gestore ucraino Naftogaz non può garantirne la sicurezza a questo si aggiunge oggi un'altra riduzione di un terzo dell'approvvigionamento rispetto a ieri questa volta la decisione è di Gazprom il colosso russo ha comunicato che invierà verso l'Europa solo 50 milioni di metri cupi di gas contro i 72 milioni di ieri insomma il gas è sempre più un'arma pesante usata nella guerra in Ucraina con ricadute inevitabili anche sulle quotazioni del metano vendute a prezzi sempre più insostenibili ai paesi dell'Unione dipendenti da Mosca in Italia ieri è arrivato meno gas russo ma per Snam la società che gestisce i nostri gasdotti il flusso è stato compensato grazie all'interconnessione della rete e all'arrivo del gas di altri paesi ma sullo sfondo resta il piano dell'Unione Europea per l'autonomia energetica dalla Russia che sarà presentato il prossimo 18 maggio un cordone che dovrà essere tagliato entro il 2027 il piano prevede secondo le bozze in circolazione investimenti per circa 200 miliardi da destinare a infrastrutture efficientamento energetico e semplificazioni per le fonti rinnovabili oltre che a puntare sull'idrogeno in questo piano potrebbe esserci anche la mediazione per eliminare il braccio di ferro sul blocco del petrolio russo contenuto nel sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia l'Ungheria si oppone minaccia il veto dare più soldi a paesi come oltre all'Ungheria anche Slovacchia e Repubblica Ceca per costruire infrastrutture e renderli indipendenti dalla Russia potrebbe essere la mossa giusta sono questi temi che sono stati toccati anche dal nostro Presidente in Consiglio Draghi faccia a faccia con il Presidente americano Biden accompagnato, lo sapete, anche da tante tensioni politiche che hanno preceduto la trasferta oltreoceano i temi legati al conflitto sono anche quelli di una riappacificazione che passa innanzitutto da una ricostruzione del colloquio tra Kiev e Mosca per almeno ottenere un cessato di fuoco questo è stato l'appello di Draghi molto forte e molto accorato Draghi che è andato oltre ha cominciato a parlare anche di ricostruzione un piano Marshall per l'Ucraina come quello che contribuì alle speciali relazioni tra Europa e Stati Uniti nel dopoguerra Mario Draghi lo propone nell'ultima tappa del suo viaggio a Washington la serata di gala dove riceve il premio dell'Atlantic Council e dove torna a parlare di pace da costruire in un percorso difficile ma necessario, obbligato un tavolo dove si devono sedere tutti a partire da Stati Uniti e Russia naturalmente Kiev dobbiamo continuare a sostenere la resistenza ucraina infliggere sanzioni alla Russia dice Draghi ma anche fare il possibile per raggiungere un cessato il fuoco e una pace durevole i cui termini devono essere decisi dall'Ucraina e da nessun altro gli stessi concetti il Presidente del Consiglio li esprime nell'incontro con la stampa riferendo del colloquio di martedì sera con il Presidente americano Biden dove si è fatto portavoce di una parte importante dell'Europa sulla stessa lunghezza d'onda degli sforzi diplomatici del Presidente francese Macron la ricerca del dialogo il tentativo di evitare che la Cina si schieri con Mosca importante è la riflessione di Draghi sulla nuova fase della guerra non è più Golia contro Davide la Russia si è dimostrata più debole di come si immaginava all'inizio del conflitto non è imbattibile per questo può essere il momento della trattativa Draghi a differenza di Biden pensa che sia giusto sedersi con Mosca anche ai tavoli dei consensi internazionali come il prossimo G20 in Indonesia non c'è contrasto tra Europa e Stati Uniti dice ma le visioni stanno cambiando lentamente divergendo serve aumentare lo sforzo diplomatico senza dimenticare il passato ma guardando al futuro senza stare a pensare chi ha vinto e chi ha perso al tavolo della trattativa dopo la pace no l'umiliazione della Russia che sembra invece essere l'obiettivo di qualche falco nell'amministrazione americana è il concetto spetta solo a Zelensky dice Draghi stabilire cos'è la vittoria lo dicevamo c'è tutto poi un versante italiano che ci riporta questa trasferta americana del presidente del Consiglio perché non è stata preceduta lo sappiamo da un passaggio in Parlamento che avverrà la settimana prossima ma neanche era rientrato Draghi dagli Stati Uniti che già a Conte per esempio era passato all'attacco tornando a chiedere ascolto rispetto per il suo movimento e i temi portati legati al conflitto Conte che cerca un asse trasversale a cominciare dalla Lega Giuseppe Conte assicura nessuna stilettata a Draghi opposto questioni politiche su cui mi interrogo con il partito di maggioranza relativa in Parlamento e la popolazione italiana chiedere che il presidente del Consiglio venga in Parlamento non è il rituale è un dovere è il rituale che in un'emergenza Belli che il Premier non ci vada Le Scalesce è un militare senza limiti per configgere la Russia sarebbe una prospettiva folle dice il presidente Cinque Stelle e Matteo Salvini insiste il dibattito parlamentare ci sarà come è giusto che sia stiamo lavorando con tutte le ambasciate per fermare le armi e arrivare alla pace Draghi ha detto che è urgente spiega il segretario della Lega la nostra posizione è chiara più armi significa più guerra noi non siamo in guerra con nessuno ed è interesse di tutti spegnere il fuoco parlerò con il presidente del consiglio senza interposta persona in vista dell'informativa alle camere di Mario Draghi il 19 maggio pentastellati e carroccio ribadiscono i loro paletti la linea pacifista scettica sull'invio delle armi agli ucraini pur da loro votata in Parlamento fino al 31 dicembre con una risoluzione approvata a larghissima maggioranza per 5 Stelle e Lega la missione americana di Draghi segna una virata sulla politica estera in linea con quella delle cancellerie dei grandi d'Europa per una maggiore autonomia dell'UE anche considerando i pesanti contraccolpi soprattutto per Germania e Italia delle sanzioni del prospettato stop all'acquisto del gas russo per 5 Stelle e Lega anche le ultime esternazioni del segretario del PD Enrico Letta correggerebbero il tiro rispetto all'ultra-atlantismo della prima ora i distinguo nella larghissima coalizione preoccupano il Partito Democratico che rivendica la sua lealtà nei confronti di Palazzo Chigi gli europei dovrebbero essere grati a Draghi per quello che ha fatto in America ha messo in guardia gli Stati Uniti sulla situazione che c'è in Italia e in Europa che si fa sempre più complessa sottolinea il segretario De Enrico Letta europeisti e atlantisti hanno il dovere di aiutare l'Ucraina a difendersi con tutti i mezzi a disposizione ma gli Stati Uniti hanno il dovere di aiutare l'Europa a trovare un punto di caduta andiamo avanti con le notizie la Corte di Giustizia Europea ha condannato l'Italia per la violazione dei limiti relativi alla qualità dell'aria un'infrazione dovuta si regge nella sentenza al sistematico e continuativo mancato rispetto del valore annuale fissato per il biossido d'azoto inoltre l'Italia sempre secondo Bruxelles non ha adottato le misure necessarie a garantire il rispetto di tali limiti tra le zone citate dalla Corte ci sono Torino Brescia Milano Bergamo Genova Roma e Firenze è stata commemorata questa mattina in Cisdordania Shirena Buakle la giornalista 53enne americano-palestinese che è stata uccisa a Jenin mentre svolgeva il suo lavoro di corrispondente dell'emittente della Qatar al Jazeera le forze di occupazione israeliana hanno assassinato a sangue freddo la nostra corrispondente ha dichiarato la rete in un comunicato sottolineando come da tutti i filmati si mostri con indosso la veste che la identificava chiaramente come giornalista per Israele invece c'è una possibilità non trascurabile che la donna sia stata colpita dal fuoco palestinese per questo il premier Bennett chiede un'inchiesta congiunta la richiesta è respinta da Ramallah che non intende consegnare il proiettile addossiamo a Israele la piena responsabilità ci rifiutiamo di svolgere un'indagine congiunta con gli israeliani che hanno compiuto questo crimine non abbiamo fiducia in loro ha detto nel corso della cerimonia che state vedendo il presidente Abu Mazen che intende invece sottoporre il caso alla corte penale internazionale adesso torniamo negli Stati Uniti però per vicende che non riguardano il conflitto ma c'è una questione che tiene incollato il paese anche le decisioni l'ultimo voto del Senato atteso vediamo a che punto siamo sul tema dell'aborto il voto era scontato la sconfitta democratica pure il Senato ha rigettato la legge che avrebbe regolato il diritto costituzionale di scelta delle donne americane di terminare la propria gravidanza 51 contrari tutti i repubblicani più il più repubblicano tra i democratici John Manchin contro 49 democratici l'obiettivo era tramutare in legge federale le sentenze della corte costituzionale su tutte l'iconica Roe vs Wade degli anni 70 prima che l'attuale corte suprema le cancelli alcune settimane fa de politico aveva infatti pubblicato la minuta del parere di uno dei giudici più conservatori Samuel Alito secondo il quale questo è il momento per ribattare Roe vs Wade l'opinione sostenuta dalla maggioranza dei giudici costituzionali dopo le nomine di Donald Trump in particolare la sostituzione di Ruth Badeginsburg con Amy Coney Barrett da sempre paladina antiabortista la corte suprema americana dunque preso una forte deriva conservatrice da cui il tentativo dei democratici di sterilizzare la probabile decisione delle toghe con una legge federale votata nonostante sapessero di non avere i numeri per farla passare arrivare alla conta è infatti un significato politico forte è una richiesta di mobilitazione nei confronti dell'America progressista in vista del voto di medio termine l'obiettivo è dipingere quello repubblicano come il partito che vuole privare i cittadini ed in particolare le donne dei diritti fondamentali il sovvertimento di Roe vs Wade avrebbe come conseguenza lasciare l'argomento del diritto di scelta in tema di aborto nelle mani dei singoli stati quelli più conservatori già da anni stanno cercando di implementare restrizioni in particolare sulle 24 settimane entro le quali è possibile interrompere la gravidanza alcuni come Texas e Missouri hanno cercato di passare bandi a 6 o 10 settimane senza eccezioni anche in caso di stupro incesto o gravi problemi di salute della madre per il momento la questione è ferma e dibattuta nelle corti lo scontro politico però mette in pericolo la salute delle donne americane con fughe fuori dal paese o oltre i confini del proprio stato per abortire il ricorso in segreto alla telemedicina o a pillole che arrivano dall'estero prese in casa con poca o senza supervisione medica adesso torniamo torniamo anche con le notizie a quell'attacco informatico che ha segnato pesantemente la giornata di ieri siti istituzionali anche quello del senato e della difesa ne sappiamo qualcosa di più perché è arrivata una rivendicazione da parte di un collettivo filo russo già conosciuto uno dei gruppi di hacker più attivo soprattutto da quando è iniziato il conflitto in Ucraina che ha colpito diversi siti anche a livello internazionale proviamo a fare chiarezza la rivendicazione arriva via telegram al termine di una giornata campale per i sistemi web delle istituzioni italiane il gruppo Killnet attivisti hacker un collettivo filo russo militante si intesta l'attacco che per ore ha messo KO almeno sette siti istituzionali Italia e Spagna questo è l'inizio della vostra fine scrivono sui loro canali telegram oltre 50.000 followers nel mirino ieri sette siti nevralgici che sono andati in tilt i portali del Ministero della Difesa del Senato dell'Istituto Superiore di Sanità dell'Automobile Club l'Istituto di Studi Avanzati di Lucca che si occupa di tecnologia digitale quello di Infomedics società di servizi per le aziende sanitarie il portale Compass un database che raccoglie informazioni societarie in serata sono stati ripristinati nessun danno ma si tratta di episodi gravi che non vanno sottovalutati scrive la Presidente del Senato Alberti Casellati la settimana scorsa la stessa squadra di hacker aveva attaccato Sitti romeni e lettoni stessa matrice per un crack ai portali tedeschi e polacchi sugli attacchi di ieri indaga la Polizia Postale gli esperti di informatica fanno notare la fragilità dei nostri portali istituzionali e strategici come quello della Difesa o del Senato che si sono fatti trovare impreparati ci troviamo di fronte ad una tipologia di attacco che è vecchia di almeno 30 anni il fatto di farsi trovare impreparati dalla dimostrazione di quale sia il vero livello lo stato dell'arte della preparazione di fronte alla minaccia cibernetica dovrebbe essere redatto un vero piano operativo e forse doveva essere già pronto perché ci troviamo di fronte ad un escalation con attacchi informatici che stanno investendo l'Europa oggi con una matrice di carattere russo nei loro messaggi gli hacker minacciano altre azioni Mirai sta arrivando scrivono Mirai è un malware per capirci un virus di vecchia generazione che ha già infettato vari device collegati alla rete quella rete di computer compromessi che potrebbe essere utilizzata per ulteriori attacchi torniamo ancora una volta a cercare di ricostruire quanto successo nell'ultimo weekend quello di Rimini segnato dalla donata degli alpini se ne è parlato molto perché sono arrivate le prime segnalazioni che testimonianze via social e poi anche le prime denunce contro i gnoti donne vittime di molestie di vario genere faticosamente hanno preso posizione i primi ministri l'ultima farla la ministra Bonetti oggi ha parlato anche il presidente Fico ma soprattutto la differenza la fanno l'azione le querele delle donne molestate e il lavoro degli avvocati siamo un paese troppo maschilista quello che è accaduto a Rimini è inaccettabile e deve farci riflettere oggi a intervenire il presidente della camera Roberto Fico sono ore di riflessioni e prese di posizione sulla vicenda delle presunte molestie alla novantatresima adunata degli alpini dopo la prima denuncia presentata alla procura di Rimini in una intervista al Corriere della Sera dopo giorni di incertezze in attesa di denunce formali arrivano così le scuse di Sebastiano Favero presidente dell'Associazione Nazionale Alpini sono accompagnate dalla volontà di aiutare gli inquirenti a individuare i responsabili per i quali i provvedimenti promette saranno forti e più o meno quanto dichiarano ora i presidi regionali storici dell'ANA il responsabile di quello a Trentino si dice dispiaciuto per episodi che andranno condannati e puniti con severità e precise per essere efficaci dovranno essere le denunce per questo l'Associazione non una di meno di Rimini ha messo a disposizione tutta la sua esperienza sulla sua pagina social ha parlato di 160 racconti dei fatti e oltre 500 segnalazioni di molestie offre un indirizzo mail per inoltrarle elencando tutti gli elementi necessari per poterle presentare ora luogo preciso con indicazioni di eventuali locali pubblici testimoni età del presunto aggressore tutto sarà analizzato da un team legale per presentare poi in procura l'atto d'accusa più efficace ma intanto sulla piattaforma change.org si raccolgono le firme perché la dunata si è sospesa per due anni una pausa di riflessione con l'invito all'ANA di prendere seri provvedimenti in materia di rieducazione riguardo ai diritti umani le scuse non sono più sufficienti scrivono sono 11 gli antagonisti appartenenti al centro sociale a Scatasuna e ad altri collettivi che sono stati raggiunti da misure cautelari per l'assalto alla sede torinese di Confindursia quello del 18 febbraio scorso gli antagonisti si erano infiltrati nel corteo degli studenti che manifestava contro l'alternanza scuola-lavoro avevano tentato di forzare l'ingresso della sede degli industriali bloccati poi dalla polizia negli scontri rimasero feriti sei carabinieri e un funzionario di polizia tre dei dodici militanti sono in carcere uno è accusato di aver ferito con un bastone il vice commissario di polizia quattro gli attivisti agli arresti domiciliari obbligo di firma per altri quattro per il GIP di Torino si trattò in quel caso quel giorno di violenza gratuita andiamo avanti con il telegiornale un'operazione della DDA di Milano che coinvolge anche Olanda Spagna e Lituania con il coinvolgimento anche della polizia internazionale cerchiamo di capire di cosa si tratta Danaro sporco frutto di operazioni legate al narcotraffico riciclato in opere d'arte la procura di strettualanti mafia di Milano oggi ha fatto arrestare 31 persone accusate di far parte di un'associazione a delinquere che trafficava in stupefacenti con esponenti dei narcos sudamericani criminalità organizzata di buon livello che operava tra Olanda Spagna e Lituania tutto parte da una cellula milanese di trafficanti di droga legata a due ristoratori in contatto con un punto di riferimento internazionale Andrea Dejana 41 anni per i magistrati antimafia a capo della presunta associazione Dejana al momento latitante risulta essere uno dei titolari della galleria d'arte contemporanea Art 3035 che ha sede ad Amsterdam e che ora è stata posta sotto sequestro ritenuta il luogo per riciclare parte dei proventi del narcotraffico accumulati dal broker attraverso vendite fittizie di opere di artisti famosi del mondo della street art tra cui quelle del misterioso Bansky solo una copertura secondo gli investigatori per organizzare forniture per centinaia di chili di stupefacenti che poi venivano smistati non solo a Milano ma anche in diverse città del centro e sud Italia nell'inchiesta risulta indagato anche il noto ex imprenditore Alberto Genovese già in carcere per violenza sessuale secondo i PM antimafia nel 2019 avrebbe comprato da due presunti spacciatori finiti dell'inchiesta 100 grammi di chetamina uno stupefacente che avrebbe poi distribuito in alcune feste del suo noto attico conosciuto col nome di terrazza sentimento vicino al Duomo e con questo ci fermiamo pausa pubblicitaria e seconda parte la pagina sportiva ieri c'è stato un verdetto importante per il calcio italiano tra poco di nuovo di nuovo insieme di nuovo insieme seconda parte della telegiornale vi dicevo il calcio innanzitutto è una stagione perennemente in bilico 180 minuti alla fine del campionato tutti i verdetti ancora da scrivere quel che più conta soprattutto uno scudetto da assegnare è un traguardo che interessa soprattutto all'Inter perché Simone Inzaghi può centrare un triplete fantastico intanto ieri sera ancora i danni della Juventus ha strappato il secondo trofeo stagionale la Coppa Italia per i bianconeri dieci anni senza dieci anni che comunque portavano a casa un trofeo dunque un digiuno storico secondo trofeo in quattro mesi la Coppa Italia dopo la Supercoppa nazionale la vittoria dell'Olimpico sempre sulla Juventus sempre ai supplementari moltiplica il morale dell'Inter impegnata adesso nel disperato assalto allo scudetto la doppietta di un Perisic polemico sul rinnovo unita alla rete di Barella e all'altro rigore di Cialanoglu confermano la superiorità dei nerazzurri che per la prima volta dalla stagione 1929-30 battono i bianconeri in tre gare ufficiali consecutive siamo molto molto contenti perché era un trofeo a cui tenevamo tantissimo davanti a questo pubblico in uno stadio meraviglioso 70.000 persone l'abbiamo voluta questa finale a quel punto dovevamo prenderci la Juventus chiude invece con zero titoli non succedeva dal 2011 dopo la rimonta firmata da Alex Sandro e Vlaovic a inizio ripresa i bianconeri avevano la partita in pugno poi il crollo i cambi conservativi e la difesa a tre abbassano eccessivamente la squadra senza coraggio è difficile vincere serata amara per Allegri che nell'anno del suo ritorno a Torino fa peggio dei predecessori Sarri e Pirlo rimediando nel burrascoso finale anche un cartellino rosso il bello del calcio è che l'anno prossimo avremo la possibilità di poter rigiocare e cercare di tornare a vincere e quindi dobbiamo far questo abbiamo messo una buona base dispiace perché dopo dieci anni l'arrivo bisogna guardare le cose positive che ci sono la Juventus ripartirà da qui sempre con Allegri ma senza Di Bala e soprattutto senza Chiellini dopo 17 anni e 20 trofei in maglia bianconera sono felice di lasciare quest'anno e di lasciare ancora ad un livello alto c'è un altro abbandono importante che segna invece la storia del nostro ciclismo innanzitutto dal Giro d'Italia aggiorniamo quelle che sono le tappe perché si corre oggi da Palmi a Scalea sono 192 km ancora per i velocisti il giro che lascia la Sicilia e saluta Vincenzo Nibali che proprio dalla sua Messina ha annunciato il ritiro a fine stagione un campione che non ha mai perso l'umiltà pur avendo vinto le tre grandi gare a tappe come lui solo altri sei nella storia del ciclismo Vincenzo Nibali ha scelto il posto dove tutto è cominciato per annunciare il suo addio al ciclismo gli occhi lucidi poche parole precise belle sullo sfondo il mare e la luce della sua Messina per me questo sarà l'ultimo giro a fine anno smetterò di correre aspettavo questa tappa proprio nella terra dove sono nato e ho iniziato a pedalare per comunicarlo ha detto il campione siciliano tra le lacrime mentre qualche metro più in là venivano premiati il francese Demar vincitore in volata della quinta tappa del giro Catania-Messina e lo spagnolo Juan Pedro Lopez che ha conservato la maglia rosa conquistata due giorni fa sull'Etna è sempre difficile dire basta giù della giostra fuori dai percorsi prestabiliti che lo sport ti ha segnato soprattutto se hai dedicato una vita a una passione diventata presto un lavoro era ancora ragazzino Nibali quando lasciò la Sicilia per trasferirsi in Toscana da lì le corse giovanili gli allenamenti spacca gambe l'adolescenza sacrificata al talento sudore mal di muscoli a rimpiazzare il tempo libero ho dato tantissimo al ciclismo ed è arrivato il momento di poter restituire un po' di quello che ho sottratto alla mia famiglia agli amici ha giunto Nibali che compirà 38 anni a novembre e che alle spalle si lascia una carriera piena di vittorie due giri d'Italia un tour una vuelta oltre a due giri di Lombardia e una Milano Sanremo pochi rimpianti e un mondiale mai vinto ma soprattutto un'Olimpiade sfuggita ai giochi di Rio per una caduta a pochi metri dal traguardo in pochi nella storia del ciclismo sono riusciti a vincere le tre più grandi corse a tappe giro tour e vuelta ci sono riusciti anche Tila Gimondi l'immancabile Merckx Ino Contador Froome e Nibali la storia del ciclismo appunto e ha invece tutto il futuro va davanti Yannick Sinner che agli ottavi di finale se la giocherà gli internazionali nella giornata di oggi ha superato un derby importante inedito in casa azzurra contro Fognini che ha lottato ma non ha vinto Il primo derby d'Italia del Foro Italico lo vince Yannick Sinner su Fabio Fognini la serata è stata un vero Amar Kord tribune stracolme come i tempi di Panatta Bertolucci Barazzuti e Zugarelli i quattro moschettieri azzurri che guidati da Pietrangeli portarono la Coppa Davis in Italia è tornato il momento d'oro per il tennis italiano con il Foro Italico che ogni giorno registra un nuovo record di entrate ieri primato storico oltre 36.000 presenze tra Sinner il calmo e Fognini l'irascibile era anche una sfida generazionale forse anche di più dal momento che 14 anni di differenza valgono più di una sola generazione sportiva i due non si erano mai incontrati ufficialmente ma si conoscono benissimo e hanno grande stima uno dell'altro compagni di squadra in Coppa Davis alla vigilia degli internazionali Sinner ha avuto parole bellissime su Fognini mi ha aiutato tantissimo a crescere ha detto il ventenne altoatesino che ha concluso il match al terzo set non senza faticare ha vinto la maggiore regolarità di Sinner che ha dominato l'ultima parte dell'incontro con Fognini troppo falloso il pubblico ha applaudito con rispetto a entrambi i giocatori senza mai fare il tifo per nessuno dei due niente atmosfera da Coppa Davis quindi con trombette interruzioni maleducate ha vinto il più giovane grande interprete del tennis moderno i suoi passanti affilati come la lama di un coltello sono micidiali e hanno messo in grande difficoltà Fognini oggi Sinner per gli ottavi di finale affronterà il serbo Krajinovic che ieri ha eliminato il russo Rublev era l'ultima notizia del nostro telegiornale prima di chiudere vi ricordo ancora una volta la nostra sottoscrizione per dare una mano al popolo ucraino in fuga la sottoscrizione in collaborazione con il Corriere della Sera un aiuto subito l'aiuto che andrà concretamente alle associazioni Croce Rossa in primis che si occupano dei rifugiati ucraini lascio la linea a Tagadà come sempre vi ricordo come sempre lo speciale del direttore Ventana dalle 17 poi telegiornale 20 se volete ci siamo domani alle 13.30 come ogni giorno una buona giornata a tutti voi